15 minuti, quando siete pronti io do luce verde dovete eliminare la difesa dopodiché mi dovete rispondere alla domanda pronti? 3, 2, 1, vai, luce verde, allargatevi piano piano inizia, Rinda vai, K aperto non fanno tutti a sinistra o tutti a destra, hai capito? Alla prossima Sì, sì, sì. A sinistra mia, l'ho preso! L'ho preso, a sinistra! Ho preso uno! Preso! Mamma mia, un mese che non gioco, porco tu! La scudo tutti, ragazzi! Occhio sopra, eh! Oh! Vedi? No, sto sparando le braccia, non ti abbasco! Stavo proprio vitto, lo vedi? Già sta, a posizione! Preso! Mi fa la meta! Preso! 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 Bomba! Io ne voglio farsi questa cosa! Ok ragazzi! Eh? Aspetta, non rispondi se mi stai sicuro! Che cosa? Che fine feceri i piloti? Che fine feceri i piloti? Ti ho chiesto io! Che cazzo si ne hanno fatti di quelli dei nola gay? Uno si è suicidato e l'altro non gli occhio! Cellulare! Cellulare! Allora... Ho tempo di andare a guardare, giusto? Hai 7 minuti! Ok! 8 minuti! Ma dai il telefono è aperto! 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 Potrei sbagliare! Aspetta! Pia Taccuino va morto! Sì! E Taccuino! Pia Taccuino! Uno si suicidò! L'altro l'ho detto... Non ricordo! Si è bloccato il telefono! Ok! Quindi quali sono le due risposte? Alcuni anni prima di morire dichiarò un'intervista Quindi morì e diventò presidente Nel 1976 Cioè morì e diventò presidente Diventò presidente e poi c'è scritto Alcuni anni prima di morire dichiarò un'intervista Non sono orgoglioso Quindi morì a Columbus Allora... Temendo di possibile... Vabbè allora è tornata... È tornata o no la bomba atomica? Quello vuole sapere l'arbitro! E l'altro si è suicidato! Allora uno si è suicidato è ok? E l'altro deve inchiaia! Uno è andato a lavorare come... Uno! Un aerotaxi Da Columbus Una compagnia aerea E voi? Il secondo qua di tirato a Mastriare Allora vi ricordate qualcosa La prima tappa che diamo La diamo ai nostri amici canizzonti Che ci hanno aiutato a fare un uomo Grazie! 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 Settimi classificatiHEN! Sì, Team testo classificato giorgio modelli quinto classificato next level quanti classificati brigata catoni terzi classificati con punti 15.280 tattica grazie 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 buongiorno il secondo classificato con punti 16.240 sbsd grazie il primo classificato con 17.300 punti grazie 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 grazie